eccoci qua come vedete non siamo nella ma nelle custom map ma oggi parliamo di technic pack allora subito iniziamo creiamo un nuovo mondo lo chiamiamo lo chiamiamo banana bananas aspet bananas world ok e creiamo un nuovo mondo genera il mondo su scelta rara bene allora la technic pack per chi non lo sapesse sono è un pacchetto di mod che aggiunge molti macchinari molti impianti tra cui questo in alto a destra che voi vedete e questo che ho in mano con questa specie di cosa è il cane mi posso fare il cane domestico ma siccome io non lo voglio non lo voglio allora questa qua come vedete non è too many items quindi io se premo un fiore o la lana mi dice il crafting ovvero la ricetta per creare quel dato oggetto tipo la libreria si fa in questa maniera forse vabbè si fa a trovare e guardate quanti quanti oggetti in più in minecraft che abbiamo fra tubi portali cose della magia che poi più avanti vedremo bene iniziamo subito iniziamo raccogliendo iniziamo raccogliendo raccogliendo del legno visto che non abbiamo nulla iniziamo raccogliendolo prendendo la pugna poi andremo in ospedale ci faremo togliere tutte le schegge di legno che ci siamo infilzati nelle mani no scherz bene abbiamo preso un po di legno iniziamo subito facciamo diventare legno lavorato e ci facciamo subito una workbench crafting table come si chiama mettiamo qua e ci inizia a fare i nostri primi attrezzi tra cui nasce e prendo un po di legno vado a prendere un po di legno e ci vediamo dopo guardate che bell'albero grande che ho trovato guardate io con l'accetta con l'ascia lo prendo il cade tutto mentre normalmente normalmente la legna cadrebbe un pezzo a un pezzo come fatto come siccome se io lo prendessi con i con i pugni a colpi di pugno e questa è una mod chiamata 3 capitato bene prendo un altro po di legno e ci vediamo dopo o alberello bene ho preso un po di legna lì in fondo vedete quell'albero con quelle foglie strane quello è un dell'albero della gomma l'albero della gomma è fondamentale per iniziare a a craftare l'aggo perché l'aggo bene e smetti la minecraft è indispensabile per iniziare a prestare i primi macchinari perché appunto da quest'albero questo albero non viene riconosciuto dal 3 capitato quindi non viene abbattuto tutto in una volta quello che mi serve a me tutto il legno soprattutto questi alberelli qua simili a questo però di quest'albero in modo che possiamo 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 andarli a piantare dove vogliamo ovviamente li pianteremo vicino casa nostra bene aspettiamo aspettiamo noi ecco questo è un alberello della gomma troppo forte no che ho fatto togliamo un po di bene prendiamo più alberelli possibili e poi andiamo a cercare il luogo il luogo dove andremo a fare la nostra casa dai un altro alberello chiedo tanto chiedo tanto lì vedo siamo nel vicino alla parude mettiamo un secondino video setting facciamo facciamo normal così ok così se andiamo verso di qua argilla clay bene andiamo verso la parude il bioma della parude che bello ah la abbiamo la giungla e direi di cercare un posto gradevole per fare la nostra casa oh canna da zucchero un pollo il sole lì vabbè iniziamo a fare la nostra casa ok questo è il bioma palude allora funghi direi di camminare un po esploriamo un po la zona vediamo vediamo come uh carbone dai non fare queste spike lag perchè 8 fps ma sei pazzo mi piace questa zona io farei la mia casa proprio dentro questa montagna che ne dite va bene posiamo un po di attrezzi qui ce li facciamo facciamo subito un piccone di legno purtroppo e prendiamo un po di roccia di cobblestone perché lentezza poi andando avanti faremo dei degli attrezzi che sono super potenti che utilizzano la corrente elettrica per funzionare poi vedremo poi lo vedremo niente prendiamo un po di questa roccia ah no io ci ho scavare lo so Ma da qui faremo la nostra La mia casa va Ok facciamoci un bel piccone in pietra Subito 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 no Che prima devo fare i bastoncini Findus Bene Ok Abbiamo sto piccone Che va leggermente più veloce E che devo dire è accettabile come Velocità Ma non è niente in confronto Con Gli attrezzi che ci faremo più in là Ah poi la cosa importante E' di seguire bene Così Da imparare tutto Perché questo Let's play diciamo Vuole essere anche un Diciamo un tutorial Anche un tutorial Allora ho visto prima del carbone Qua facciamo così Va bene Per adesso Come rifugio per la notte Perché fra poco sta avvenendo la notte Mi pare che è accettabile Dai Minecraft non ti imballare Ok Allora questa la Mettiamo Da qualche parte Ci facciamo una bella cesta Da mettere Tutte le cose che per adesso non servono Tipo questo Questo Il legno Bene Allora diciamo che E' arrivata la notte Facciamoci una Facciamoci una porta Subito Così 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 non dobbiamo Spaventarci Allora la mettiamo verso di qua Per adesso facciamo così Poi lo sistemo tutto io Ok Bene Perché Perché Sì E per questa brevissima puntata è tutto Ci vediamo al prossimo episodio Ciao ciao